Ciao ragazzi, benvenuti. Questo non è un video tutorial, ma è un video un po' di idee, di pensieri, di cose che stanno succedendo in questo periodo e che magari hanno bisogno di essere spiegati. Quindi si muove, si gira, si vocifera che ci possa essere ancora questo grande aggiornamento. Diciamo che ci stanno ancora un po' di cose in sospeso e voglio dare il mio contributo su quello che penso. Allora, una cosa intanto che voglio dire è che queste cose che vi sto per dire sono soltanto i miei pensieri, i miei ragionamenti, quindi non c'è nulla di vero, però ci sono insomma dei segnali che potete constatare voi stessi. Allora, prima di tutto consideriamo che tutti gli aggiornamenti grossi di No Man's Sky, quindi stiamo parlando di Beyond, di Next, di Atlas, sono tutti aggiornamenti che hanno una cadenza abbastanza annuale, cioè nel senso stiamo parlando di giugno, luglio, sono grossi aggiornamenti che sono stati, diciamo, seguiti da piccoli, tanti aggiornamenti, ok? Ora, c'è da dire una cosa, molti dicono, ok, Hello Games non ha mai parlato di faremo adesso grandi aggiornamenti, ma faremo dei tanti piccoli update. Questa cosa qua in realtà non è mai stata detta, cioè è sempre stato così, ma anche a livello proprio di programmazione e di sviluppo dei videogiochi, i piccoli update servono per tenere la community, diciamo, bella calda, oltre a dare comunque bug fixing. Ma il grande update c'è sempre stato e ci sarà sempre, perché è quello che dà effettivamente voce al gioco su riviste, su blog, eccetera, eccetera, quindi il blog non ti va a scrivere un articolo che parla, oh, guarda, hanno corretto questo bug, eh, se no stavamo freschi. Hanno, diciamo, le riviste scrivono per i grandi update, quindi gli grandi update ci saranno sempre, è inutile a dirsi. Ora, abbiamo parlato di Next, Beyond, Atlas, sono tutti update grossi che hanno quella cadenza di luglio, giugno, qualcuno ottobre, però annuale, eh, diciamo, c'è sempre, c'è sempre stata, ecco. Ora, andiamo a vedere un po' una piccola particolarità che, diciamo, è stata scoperta in rete, non ci avevamo fatto caso, in realtà, eh, o meglio, io ci avevo fatto caso su, eh, più che altro sulle date, che non su queste scritte. Guardate come, per esempio, in questa, in questa immagine, per esempio, di Beyond, dell'update di Beyond, c'è, appunto, la scritta dell'anniversario, oppure in questa di Atlas, oppure ancora questa qua di Next, fa sempre riferimento a una parte, diciamo, di anniversario di, eh, di No Man's Sky. Ricordiamo che quest'anno è un anno importante per No Man's Sky, perché è un grosso anniversario, ok? Sono, eh, sono, sono dieci anni dall'uscita di No Man's Sky, quindi, eh, diciamo, secondo me ci si può aspettare ancora qualche, qualche cosa. Desolation è stato un buon update, ha introdotto un sacco di meccaniche, secondo me ha introdotto un picco, le meccaniche, che però danno la base per un qualcosa di più, di più grande. Ora, c'è da dire anche un'altra, un'altra cosa. Questa persona qui, che vi metto qua come bella immagine, è il, eh, è un, diciamo, uno sceneggiatore delle storie di videogame in generale, ma anche di, eh, di No Man's Sky. Ha scritto tantissime storie, ha scritto alcune parti di, di Nex, anche, eh, eh, Atlas Rise, ha scritto tutta la storia di Atlas Rise, sono trenta ore di, di gioco. Eh, ha scritto, eh, numerose, eh, eh, missioni settimanali che noi possiamo trovare nel Nexus. Eh, ma, eh, ha detto poco tempo fa, comunque, che stava lavorando a un grosso, diciamo, una grossa storia. Ora, la grossa storia che lui sta scrivendo da, da marzo, eh, ragazzi, non può essere, eh, Desolation, perché Desolation non ha una grossa storia, ok? Quindi, secondo me, ci si può aspettare qualcosa da questo, diciamo, da questo professionista del, del settore, eh, che continua comunque a scrivere per No Man's Sky, tuttora sta scrivendo per No Man's Sky, eh. E, eh, ora, oltre a questa roba qua, lui ha pubblicato, o meglio, ha retweetato anche, eh, numerosi tweet riguardando alcuni, diciamo, piccoli, eh, piccole chicche. Ora, una di queste chicche che sta succedendo in questo momento, e possiamo andarla a constatare noi in questo momento, e ve la faccio vedere, è questa cosa qua. Che, all'interno dell'anomalia, sono scomparse delle persone, ora dite, ah, è scomparsa Arianna la volta scorsa, sì, ma, eh, qui mancano due persone. Se noi ci facciamo un giro, da qualche altra parte, per esempio, scendiamo, scendiamo da questo punto qua, mh, ma qui manca Arianna. Ora, saliamo un attimino indietro. Oh, oh, qua manca qualcun altro. Siamo a quattro personaggi all'interno dell'anomalia che scompaiono quasi contemporaneamente, ok? Eh, questa cosa qui, eh, sì, vabbè, potrebbe essere una missione settimanale, sì, potrebbe essere, sicuramente, però, secondo me, è un qualcosa un po' di più. Cioè, quattro persone che scompaiono in contemporanea nell'anomalia per fare cosa per una missione settimanale? Per due missioni settimanali? Dobbiamo cercare tutte queste persone? Non lo so, ragazzi, non lo so, a me qualcosa non quadra. Inoltre, aggiungo anche una cosa che a me mi sta balenando in testa, mi frulla in testa da parecchio tempo, ok? Da circa due settimane, più o meno. Qua c'è sempre stata, o comunque, in realtà non l'ho tanto notata all'inizio, una zona in cui ci stanno due standardi. Ora, questi due standardi, per me, ora sto fantasticando, però non lo so, eh, potrebbero essere l'introduzione di clan o di community all'interno di No Man's Sky. Tra l'altro, le community di No Man's Sky ci sono sempre state, cioè, da quando esiste No Man's Sky, le persone si sono sempre riunite per fare delle community, per fare degli hub. Quindi, perché non mettere all'interno di No Man's Sky un qualche cosa all'interno del gioco per creare il proprio clan, il proprio, diciamo, la propria gilda, non so come vogliamo chiamarla. La propria corporazione, perché i No Man's Sky sono anche corporazioni che fanno, che si organizzano, giocatori che si organizzano per fare determinate cose, costruzione, arredamento, o aiutare altre persone in modalità morte permanente. A me questa cosa qua non mi è mai, non mi si è mai tolta di testa. In più, se alziamo un po' lo sguardo, cioè, perché dovrei mettere due frecce qui sopra, che sono abbastanza sicuro che non ci siano mai state, che puntano questa zona qua? Queste, vi ripeto, sono soltanto mie idee, miei pensieri, sto unendo dei puntini, però, diciamo, c'è qualcosa da ragionare. Ora, ditemi un po' che cosa voi ne pensate, scrivetelo nei commenti, fatemi sapere un po' qual è la vostra idea. Vi ricordo, iscrivetevi al canale se vi piacciono comunque i contenuti che sto portando. Vi dico già che sono in progettazione, o meglio, sono già stati fatti tre nuovi tutorial su No Man's Sky che nelle prossime settimane usciranno. Quindi, mi raccomando, iscrivetevi per non perdere neanche questi tutorial. Non mi resta che salutarvi e, come al solito, augurarvi un buon viaggio all'interno di No Man's Sky. Ciao ragazzi! Ciao ragazzi!